Si capirà meglio nelle prossime ore se la strada per la costruzione dell'ospedale Maglie Melpignano si fa più tortuosa, se si potrà cercare velocemente di recuperare il finanziamento statale per costruirlo. Martedì infatti è convocato un vertice in presidenza tra la ASL, Dipartimento Sanità della Regione, il capo di gabinetto catalano e l'avvocato bolognese Zunariello, al quale l'azienda sanitaria ha affidato la redazione di un parere che tarda però ad arrivare e quindi, per velocizzare quantomeno questo passaggio, tutti convocati nel palazzo presidenziale. Perché è necessario capire dall'avvocato incaricato se è possibile una revisione progettuale dell'ospedale per contenere i costi dell'opera, saliti a 416 milioni di euro dai 142 iniziali e successivamente stabilire se procedere con lo stesso raggruppamento di progettazione oppure optare per il partenariato pubblico-privato. In tutto ciò, sul tavolo dell'incontro, i progettisti arriveranno con una bozza di modifica che potrebbe ridurre i costi di 40-50 milioni di euro senza intaccare l'aspetto e i parametri dei posti letto, ma facendo piccoli spostamenti. Una riduzione che però da sola non sarà sufficiente.